Ieri è stata una partita giocata a bisaperto da tutte e due le squadre, in certi frangenti potevano andare in vantaggio loro, potevano andare in vantaggio noi, poi è chiaro abbiamo preso golle, sapevamo benissimo che non c'erano i supplementari ma c'erano i rigori, abbiamo tenuto botta fino alla fine e poi siamo andati alla lotta dei calci di rigore. Domenica c'è un derby all'orizzonte, si gioca contro l'atletico Campofranco ed è chiaro che il Gela, dopo il pareggio rimediato contro la Libertà Stata Calmuto, deve fare necessariamente punti. Non è giusto insomma coppevolizzare questi ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, io sono molto fiducioso perché stiamo intraprendendo una strada importante, ritengo che è una squadra che sta facendo un grande lavoro, una squadra che segue, una squadra che ha ricominciato a fare un lavoro che non c'era prima e che di conseguenza, in questo momento stiamo attraversando un momento un pochettino particolare, però è chiaro che io posso lanciare un appello ai tifosi soprattutto di avere fiducia, di stare più tranquilli, abbiamo avuto qualche qualche battuta d'arresto, qualche passo falso, però il campionato è ancora nello stato embrionale, non possiamo dare nessuna, abbiamo due progetti, campionato e coppa dove stiamo andando avanti, considerare che non è facile spendere energie e soprattutto fisiche e mentali, giocare domenica, poi mercoledì e domenica, già significa spiegare tanto, però io sinceramente ho nel mio DNA la positività di portare avanti questo progetto importante, credo in questo progetto, voglio dire alla gente che deve stare in serena, che deve avere fiducia e sono convinto che poi alla fine la strada la conosco dove dobbiamo arrivare. I risultati nelle ultime tre partite al Gela, ci riferiamo in tema di vittoria, non sono arrivati. Sì, ma non è che ce la può vincere tutte le partite, non esiste nel mondo del calcio. Però non può pareggiare con l'ultima in classifica? Beh, dalle volte si può anche perdere con l'ultima in classifica, io penso che il calcio è un gioco, non è una forza fisica, è un gioco, per cui non è che si incontrano due pugili, che è uno più bravo dell'altro. Abbiamo avuto delle battute d'arresto, stiamo cercando di metabolizzare tantissime cose, siamo in una fase di allestimento dell'organico, dobbiamo andare sul mercato di riparazione, abbiamo tante cose che bollono in pendola, però è giusto che non possiamo essere in testa la classifica in questo momento. Per portare il Gela in Sreddi? Ma il Gela ci arriverà in Sreddi, ci arriva tramite una strada o un'altra strada, io penso che non sono un allenatore che conosco solo una strada, conosco i bivi, conosco gli incroci, sono benissimo come si deve andare avanti.